Lo studio dell'anno, Tax Consulente e Bonelli Erede. Eccoci qua, a breve vedremo Andrea Silvestri, nel frattempo leggiamo la motivazione. Secondo la giuria, il metodo di lavoro e l'approccio multidisciplinare alle operazioni sono un unicum nel panorama italiano, qualità dimostrate nell'assistenza d'Ardian sui aspetti fiscali legati alla joint venture con Tim. Avvocato Silvestri, buonasera, che sapore ha per lei, per voi, insomma, questo riconoscimento? È sempre un piacere averlo e non vorrei essere banale perché lo dicono tutti, ma sono veramente convinto che soprattutto questi riconoscimenti sono a favore del team, quindi è merito della passione di tutti se si riescono a ottenere dei successi. Grazie, io non so come ringraziarla. Telegrafico anche lui. Per la brevità. Beh, siamo arrivati un po' lunghi, poi non so perché noi fiscalisti per ultimi, non è che forse c'è così, visto che quando si parla di fisco nessuno è contento di parlarne salvo noi, può essere che sia questa la ragione. Ma no, ma nelle scalette, come lei sa, poi insomma si mette la parte più interessante, solitamente anche in televisione si lascia per incollare insomma il pubblico. Grazie della sua simpatia. Era una battuta ovviamente. Grazie mille di essere stato qui con noi. Grazie mille di essere stato qui con noi.